l'Inter mette la sesta l'Inter mette la sesta sesta vittoria consecutiva per l'Inter in campionato e questa è la notizia più positiva in una partita che è stata tutt'altro che brillante in una partita che l'Inter quindi vince battendo per due a uno lo Spezia perché tra l'altro proprio negli ultimissimi secondi di questa gara lo Spezia ha trovato un gol che francamente secondo me non è che abbia molto meritato perché eh è vero che l'Inter non ha brillato anzi soprattutto il primo tempo è stato completamente regalato da una formazione un po' troppo rinunciataria quella nera azzurra e sotto ritmo sotto tono ma lo Spezia oggettivamente oltre a tenere tenere tanto il pallone a fare tanti passaggi non è che abbia creato chissà quali pericoli alla retroguardia nera azzurra nel finale però ha trovato la rete eh su una piccola disattenzione della retroguardia nera azzurra e come da tradizione l'Inter alla prima occasione viene eh punita però sesta vittoria consecutiva è una vittoria che viene tutta nel secondo tempo perché accade tutto nel secondo tempo nel primo tempo c'erano state un paio di occasioni la prima soprattutto con un ottimo lavoro di Lautaro per Lukaku Lukaku poi è stato chiuso soprattutto una grande azione di Ashley Young che avrebbe meritato maggior fortuna dopo il dribbling secco rientrando poi col destro fermato dal portiere Provedel e per il resto davvero un primo tempo eh sotto tono molto brutto giocato in maniera troppo lenta in cui si aspettava molto eh lo Spezia si faceva fare un po' quello che abbiamo visto nelle ultime partite si lascia l'iniziativa agli avversari che gestiscono tanto il pallone ma lo fanno in maniera molto sterile perché poi dietro l'Inter era compatta e non concedeva occasioni francamente eh la scelta di Gaiardini ecco l'abbiamo commentata in una partita di questo tipo è stata poco utile perché comunque lo Spezia non è che abbia creato particolari pericoli non c'era così bisogno di aggiungere un altro centrocampista difensivo eh lì in quel momento lo abbiamo detto in diretta lo ve l'ho commentato durante la diretta serviva qualcosa per cambiare il ritmo qualcosa per spezzare la partita guarda caso entra Sensi l'Inter svolta Sensi non entra direttamente nell'azione del primo gol che sblocca la gara e permette poi di giocarsela in maniera più aperta però secondo me l'ingresso di Sensi lo sto ripetendo ormai da tante volte cambia l'atteggiamento della squadra cambia l'atteggiamento dell'Inter dà più dinamismo e trasmette anche quella voglia di dire andiamo a vincerla dicevo non è entrato direttamente nell'occasione del gol perché l'occasione del gol nasce da una perfetta combinazione in uscita dal pressing eh ancora a rimarcare che i meccanismi offensivi dell'Inter sono molto collaudati e sono studiati e calibrati al millimetro Lukaku la stoppa di petto per Lautaro Martinez di prima la dà su Hakimi che fino a quel momento secondo me aveva fatto male ed era stato sottotono Hakimi sfrutta poi tutte quelle che sono le sue doti la grande corse la precisione al tiro negli ultimi metri e batte prove del per il vantaggio dell'uno a zero a quel punto la partita inevitabilmente si sblocca l'Inter però non cambia atteggiamento continua a gestire il pallone continua ad attendere che si creino le occasioni per andare a punire la squadra avversaria lo fa poi con un rigore che inizialmente l'arbitro non aveva dato ma che era palesemente netto con Zola braccio larghissimo stoppa il cross dentro calcio di rigore Lukaku freddissimo firma il due a zero nel finale come detto il gol di eh piccoli primo gol in Serie A ovviamente molto spesso ci capita di commentare il primo gol in Serie A di tanti calciatori succede anche a piccoli in bocca al lupo per la sua carriera eh detto questo eh è stata una partita come potete immaginare per chi ci ha seguito in diretta piena di critiche piena di nervosismo soprattutto dopo i primi quarantacinque minuti soprattutto perché dall'altra parte il Milan è andato subito in vantaggio con l'uno a zero dopo zero secondi praticamente poi aveva trovato il raddoppio annullato per fuori gioco e eh poi invece il raddoppio effettivo è arrivato con Ceranoglu quindi anche sulla scorta di quello che succedeva da sull'altro campo in tanti hanno iniziato durante la diretta a appesantire i commenti tante critiche tante polemiche cambia questo cambia quello conte out di qua di là calma ragazzi io eh torno sempre su quel discorso non sono soddisfatto assolutamente del primo tempo che abbia fatto che ha fatto l'Inter però il discorso è sempre quello le partite durano novanta minuti le stagioni durano trentotto partite eh la partita inter spezia dice che l'Inter ne ha vinte sei consecutive non è un gioco brillante non è un gioco spumeggiante ma l'Inter contro lo spezia oggi ha meritato di vincere non ha rischiato nulla eh non ha riportato infortuni col minimo sforzo gestendo le energie ha portato a casa il risultato e se ci lamentiamo che manca il bel gioco quando si vince poi quando si vince diciamo che eh si è fatto male un qualcosa a livello difensivo bisogna giocare in maniera più spumeggiante poi se vai tutto all'attacco ma perdi non va bene facciamo pace l'importante oggi era vincere l'Inter ha vinto sesta vittoria consecutiva mette nel mirino la vetta della classifica che resta sempre lì e tra poco vado a mostrarvi la classifica e vado a mostrarvi anche il calendario perché la prossima giornata è un'altra giornata molto interessante prima le pagelle curate dal nostro no ho sbagliato il link ovviamente andiamo a recuperare le pagelle curate dal nostro Simone Frizza eccoci qua le pagelle del nostro Simone Frizza con Samir Andanovic voto sei non ha dovuto far nulla nel gol finale effettivamente è incolpevole la screener sei un paio di sbavature ma anche qualche errore in fase di impostazione poi nella ripresa non ha concesso nulla il gol arriva dalla sua parte ma era tutta la difesa fuori posizione De Frey sei e mezzo come al solito è il migliore del terzetto difensivo Bastoni invece molto stanco scrive il nostro Simone gli dà voto cinque e mezzo a Kimi sei sono d'accordo perché nel primo tempo non aveva fatto bene e poi è stato molto bravo in occasione del gol a farsi trovare pronto andare a dare supporto agli attaccanti e a sfruttare la prima buona occasione capitata sui suoi piedi a sbloccare la partita con un gol molto pesante Darmiano è entrato a settantanovesimo non ha fatto granché e finisce con un senza voto Barella sei si vede soprattutto si vede poco soprattutto perché la pressione dello Spezia che ingabbia il centrocampo è automatizzata al millimetro quindi Barella sei anche se si conferma comunque uno dei più vivi del centrocampo nerazzurro e dei più attivi Brozovic cinque e mezzo non mi ha particolarmente convinto neanche a me Brozovic che tra l'altro ha sbagliato tante aperture che sarebbero state tante possibili occasioni per Ashley Young che era lasciato sempre molto libero sulla sinistra Young e Brozovic purtroppo in diverse occasioni ha sbagliato la misura dei passaggi Vidal sei quando è entrato per congelare un po' il risultato diciamo ha fatto il suo Gaiardini voto cinque non era la sua partita l'ho detto subito e infatti il cambio con Sensi è stato importantissimo ha dato svolta la partita il nostro Simone oggi eh con i voti non ci è andato largo è andato abbastanza strettino Sensi voto sei una prova non illuminante ma per fare meglio di Gaiardini bastava ben poco comunque diciamo che il suo ingresso ha dato un cambio alla manovra nell'azzurra Young sei ci sta Young perché comunque aveva fatto bene soprattutto aveva sfiorato un gran gol è stato molto attento anche in fase difensiva D'Ambrosio senza voto Lautaro Martinez cinque e mezzo e voglio sapere che cosa ne pensate perché anche Lukaku nel voto nelle pagelle del nostro Simone prende cinque e mezzo vi lascio il link alle pagelle qui sotto eh fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi e questi sono i voti quindi dei due attaccanti tra l'altro Lukaku che con il gol del raddoppio risulta essere ancora una volta decisivo undicesimo gol in campionato per Big Rom sempre più capocannoniere di quest'Inter vediamo un po' anche di i vostri commenti Kostikos dice fatto il compitino dopo il primo tempo inguardabile solito finale con gol preso per fortuna al novantatreesimo eh poi Brozovic merita cinque e mezzo dice il nostro Alfonso eh Giorgio dice Lautaro mezzo voto più di Lukaku eh Mario otto ho l'impressione che la squadra sia stanca di testa sì io questo nelle varie considerazioni e poi chiudiamo la clip nelle varie considerazioni eh che che bisogna fare c'è anche la stanchezza non solo fisica ma anche mentale di una squadra che sta giocando praticamente sono sempre gli stessi che stanno giocando partita dopo partita eh sempre gli stessi pochi cambi anche se adesso l'Inter finalmente comincia a riavere a disposizione i vari cambi e a livello anche mentale le energie che si spendono sono tante in questa situazione non semplicissima con diversi giocatori come Brozovic e Barella che stanno giocando anche con qualche piccolo acciacco l'importante era vincere l'importante era restare lì l'Inter resta lì prossimo turno vi dicevo devo mostrarvi il calendario di Serie A o comunque ve lo cito eh rapidamente a voce ci saranno eh l'Inter che sarà di scena sul campo del Verona mercoledì alle diciotto e trenta la Juventus affronterà la Fiorentina martedì sera eh Bologna Atalanta poi Milan e Lazio quindi altro big match per il Milan che affronta la Lazio mercoledì alle venti e quarantacinque Napoli Torino e Roma Cagliari questo per darvi un po' il quadro della situazione ribadisco prendiamoci tre punti continuiamo ad arrivare a tirare con i denti il coltello tra i denti fino a Natale e poi rifaremo i conti la prossima stagione fatemi sapere che cosa ne pensate la prossima il prossimo anno duemila e ventuno non la prossima stagione ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate quindi di questa partita delle nostre pagelle scriveteci qui sotto nei commenti il vostro giudizio ovviamente iscrivetevi al nostro canale siamo in diretta tutti i giorni e commenteremo in diretta ovviamente anche la partita di mercoledì Verona Inter Grazie a tutti i nostri spiegati 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 i